...a quella offerta culturale che una grande metropoli della cultura può offrire e in un momento come questo in cui c'è un comune, un'amministrazione, un gruppo di persone che sposa questa necessità e comunque la intravede come una necessità di offrire magia, bellezza alla cittadinanza dove a cominciare dal primo concerto ci apriamo ad ogni cittadino l'abitué, il neofita che magari incuriosito da un grande nome può arrivare da altre province della regione come da fuori regione e questo può portare all'interesse non solo di abbonarsi ma a vedere e a percepire questa città come una città che non è una destinazione soltanto stagionale ma attraverso tante attività che la città ha offerto sempre di più si percepisce crescente questa percezione di una città che è una destinazione tutto l'anno la stessa cosa l'associazione culturale Lemuse ha avuto il piacere e la gioia di farlo anche in piccoli centri nell'entorterra dove venivano proposti anche luoghi insoliti sconosciuti i turisti e venivano appunto coniugati alla cultura quindi direi di lasciare la parola al direttore artistico di Senigallia Concerti al direttore artistico dell'associazione culturale Lemuse e lo lascio con questo auspicio questa è la nostra speranza che tutto questo, tutto questo sforzo, questo grande impegno espresso da tutto il team possa declinarsi in una graduale nascente tradizione di grande musica per la città di Senigallia da identificarsi completamente e totalmente con questa splendida città grazie bene, allora prendo spunto da quello che ha detto Antonella Cecere per dire che comunque questo rapporto anche dell'associazione con il comune in questo caso sono due soggetti che compartecipano quindi non è solo il comune che eroga un contributo ma anche l'associazione stessa che mette a disposizione le proprie risorse per portare a Senigallia questo progetto e un primo riconoscimento importante è stato che proprio questo progetto è stato accolto dal Ministero della Cultura e quindi è accreditato dal Ministero della Cultura è un titolo, è un riconoscimento che viene dato a pochissime realtà creare una fidelizzazione intorno a un progetto culturale quindi non sono manifestazioni spot ma un preciso percorso a proporre che voglio dire quest'anno si attua attraverso sei concerti ma poi anche perché siamo un po' in corsa e quindi l'organizzazione per adesso si è concentrata su diciamo su questo aspetto della programmazione ma sono previste per il futuro una interazione anche con tutto il mondo con la scuola e poi anche attraverso appuntamenti di presentazione quindi incontri proprio specifici anche informali presso le biblioteche insomma verranno individuate delle location dove insomma parlare di musica come si va al bar per parlare, non vado al bar perché si parla di politica e di calcio essenzialmente no, ci sono dei luoghi tipotati che possono anche in qualche modo contribuire anche a creare dei salotti culturali e questa è anche un po' l'ambizione che vorremmo per il futuro brevemente perché poi nel comunicato c'è scritto tutto vi dico che si inizia il 27 di novembre con Paolo Fresu è un progetto molto molto originale e sarà una prima regionale back to back quindi una sorta di crossover tra il jazz e la musica classica in particolare per la barocca perché come dice stesso dice Paolo Fresu lo stesso ci sono molte molte analogie sul discorso del jazz della musica barocca perché la musica barocca era fortemente legata all'attentiamento dell'intervizzazione e sei appuntamenti, ci terrei a parlare del secondo appuntamento perché sarà un appuntamento a ingresso libero ovviamente perché lo faremo in Duomo è un concerto che si intitola Baglioni di Pace quindi un concerto dedicato alla pace io ho eseguito anni fa un brano bellissimo di un compositore giorgiano Ghiè Cancelli che è morto recentemente che ho conosciuto, un grandissimo compositore e al Duomo di Milano per il Festival Mito Milano Torino, sapete l'acronimo di Milano Torino Grosso Festival abbiamo eseguito questa opera a me mi è rimasta nel cuore perché appunto è dedicata alle sofferenze è una sorta di grido contro il dolore e la sofferenza causata dalle guerre e quest'opera è di una bellezza indescrivibile e io ho deciso di, in qualche modo, di inserirla in questa programmazione con questo appuntamento al Duomo creando una coproduzione la faremo, verranno fatte due rappresentazioni di cui una a Senigallia e una alla Santa Casa di Loreto proprio all'interno della Basilica di Loreto e poi avremo per Natale un concerto gospel proprio il giorno di Natale perché crediamo che il pomeriggio di Natale il pubblico, dopo aver fatto l'appuntamento tradizionale con il pranzo di Natale sia libero e sia desideroso di passare una serata in teatro avremo uno spettacolo di danza di danza moderna con Anbetato Romani che è un personaggio molto una compagnia straordinaria e la particolarità è che ci sarà la musica del vivo quindi è un balletto vero e proprio ma ci sarà un percorso anche qui musicale per quello che l'abbiamo inserito nella stagione musicale perché c'è l'esecuzione da parte di Costanza Principe che è un'artista incredibile, una pianista farà un programma con tutti i preludi dei grandi compositori del passato e su questa musica si sviluppa, si articolano le coreografie che verranno interpretate da questa compagnia di danza un omaggio ad Astor Piazzolla che mi vede impegnato in prima persona insieme a un bandoneonista straordinario Fabio Furia e infine abbiamo Anna Tifo che è un prodigio del violino quindi voglio dire abbastanza giovane ma secondo me tra i giovani lasciando perdere Uto Ugi che è un grandissimo violonista che abbiamo avuto l'anno scorso ma ormai ha un'età diciamo nella nuova generazione è un po' la punta di diamante quindi ecco come vedete una stagione che è molto varia sei appuntamenti ma molto molto vari tra di loro ma tutti comunque di grande profilo culturale secondo me, di grande livello ecco come diceva giustamente Etanella Cescere che potrebbero figurare veramente in qualsiasi stagione musicale di una metropoli internazionale io mi fermo qui perché ho già parlato abbastanza poi ovviamente dopo gli interventi se avete delle domande sarò felice di rispondervi come Comune di Senigallia questa è un'esperienza estremamente importante intanto volevo ringraziare l'associazione Le Muse che ha un ruolo estremamente importante come era stato già detto sia nella persona del vicepresidente appunto per esempio nella Cecere sia anche nella persona del suo direttore quindi praticamente Federico Mondelci è un qualcosa che ha diversi aspetti importanti per la nostra città il primo aspetto che ci rileva è che si aumenta il ventaglio si aumenta il ventaglio in quella che è l'offerta culturale che solitamente viene data al teatro non più solo prosa ma ci allarghiamo anche ad una stagione quasi autonoma che comunque si intersega in maniera estremamente omogenea con quella teatrale che appunto è dedicata alla musica e quindi praticamente a quello che è un appuntamento che ha una valenza particolare anche i nomi che avete visto dimostrano l'importanza di questa prima stagione se così possiamo dire perché spero che la prossima saranno sicuramente ce ne saranno delle altre che è stata costruita forse un po' all'ultimo momento e soprattutto per colpa del Comune anche per il fatto del discorso dell'alluvione quindi ci siamo distratti un attimo ci siamo stati un attimo un po' latenti nell'ultimo mese mese e mezzo ma credo in modo totalmente giustificato però la volontà era appunto quella di proseguire su questa linea perché appunto si voleva cercare di dare un panorama sempre più esteso a quello che era non solo la cittadinanza senigallese ma anche la possibilità di rendere Senigallia attrattiva almeno nel territorio regionale anche in un periodo come quello invernale autunno-invernale dove di solito diciamo noi caliamo un attimo l'attenzione quindi avere questo è estremamente importante poi l'aspetto estremamente rilevante è l'aspetto culturale perché diciamo che Senigallia ha necessità di avere anche una stagione musicale degna di questo nome e che ci possa permettere adesso di entrare in questo mondo ma di poter poi ambire nel corso degli anni sempre a una maggiore rilevanza non dico competendo con le maggiori città regionali della regione che si dedicano a questo ma per rendere appunto una stagione veramente interessante anche sotto questo aspetto da ultimo l'aspetto sinergico perché questo non è mai secondario perché non è facile trovare delle associazioni con cui collaborare come abbiamo avuto noi la fortuna come città di Senigallia di poter avere appunto questo aspetto sinergico che ci ha consentito come è stato detto da chi mi ha preceduto anche di poter avere dei finanziamenti quindi l'attenzione da parte del Ministero e quindi di avere anche una realtà che è totalmente innovativa quindi per quanto ci riguarda noi speriamo che questo sia l'inizio di un solco che andrà sempre più allargandosi nel corso degli anni Sì buongiorno io ringrazio il maestro Mundelci e il vicepresidente dottoressa Cercere dell'Associazione delle Muse per aver collaborato o partecipato appunto insieme al Comune alla realizzazione all'offerta di questa prima stagione concertistica che va in quella direzione che il Comune intende portare avanti di offrire sempre maggiori opportunità di crescita alla cittadinanza ma con regionali e anche a chi viene da fuori regione perché quest'anno per esempio assieme all'ultimo alla stagione teatrale abbiamo come amministrazione voluto aggiungere anche una prima stagione di danza questi sei appuntamenti sono sei appuntamenti tutti di rilievo nel merito il maestro le ha descritti e non lo posso aggiungere se non la collaborazione con la diocesi l'ospitalità dell'occasione della prima domenica d'avvento per appunto il concerto per i variori di pace per la pace che è un periodo in cui abbiamo bisogno a Iosa la sinergia è un aspetto che come giustamente sottolineato dall'azienda è fondamentale perché consente di poter arrivare a risultati che magari singolarmente un comune o un'associazione non avrebbero potuto raggiungere e apri scenari che chiaramente nessuno di noi riconosce possono essere esplorati per garantire offrire una seconda terza e così via stagione a chi vorrà partecipare tenete conto che Senigallia come terreno tra virgolette risponde sempre molto bene all'interno delle proposte culturali l'hanno visto il teatro moltissime volte come anche Pocanzi ricordato il maestro sempre pieno quindi è un è un particolare nell'ambito di una regione che è quella per che si è anche candidata per riconoscere per ricevere il riconoscimento dell'UNESCO il teatro la finisce con il suo parco con la sua disposizione si presta molto bene appunto a offrire queste occasioni quindi ringrazio di nuovo all'associazione a offrire